La degenerazione maculare legata all'età è una patologia che colpisce la parte della retina, debutata alla visione centrale nitida e dettagliata necessaria per attività come la lettura. Attualmente nel mondo ci sono circa 21 milioni di persone che ne soffrono. E proprio a Pescara arriva a sabato prossimo, 16 dicembre, la quarta tappa della campagna. Il tuo punto di vista conta non lasciare che le maculopatie ti fermino per sensibilizzare su questa patologia. Dalle ore 10.30 alle ore 13 e dalle 14 alle ore 19 presso la Fondazione Pescara Abruzzo in Corso Umberto a Pescara si potrà fare uno screening della vista gratuita per prevenire questa patologia. La prevenzione della maculopatia è fondamentale. È una malattia che porta a cecità se non curata o se non diagnosticata per tempo. Bastano 5 minuti e fare dei test di screening oggi disponibili in tutte le cliniche oculistiche d'Italia per poter salvare la vista e per poter avere una diagnosi precoce e di conseguenza, se c'è possibilità, avere una terapia adeguata. È una malattia che può portare a una cecità centrale. Esistono tanti tipi di maculopatie, da quelle congenite per cui già in età neonatale, ma quelle di cui parliamo oggi sono quelle di un'età un po' più avanzata, quella del giovane, del giovane adulto, dell'adulto e anche dell'anziano. Tanto più si è anziani, tanto più si va incontro a questo tipo di maculopatie con un incremento anche esponenziale. Se pensiamo che sopra i 50 anni la degenerazione maculare colpisce l'1% della popolazione, più andiamo su con l'età, più addirittura si raggiunge il 70% della popolazione sopra i 70 anni. Quindi diciamo che è una malattia altamente invalidante. L'importante è fare la prevenzione perché le maculopatie possono essere giustamente diagnosticate in tempi anche non sospetti da disegni prodromici, da disegni particolari. L'importante è fare la prevenzione presso centri specializzati, da specialisti, ovvero sia da oculisti, e non magari nelle ottiche come purtroppo, benché siano degli ottimi collaboratori degli oculisti, però non hanno le conoscenze e il know-how per dire questa è una maculopatia, questa non è una maculopatia. Questo è molto importante. Ci sono gli strumenti e i farmaci per poterle combattere? Assolutamente sì, esistono come oggi tante armi, un tempo avevamo solamente il laser, dal laser poi si è passato anche alla chirurgia, ma si è visto che c'erano dei grossi insuccessi da un punto di vista non tanto anatomico quanto funzionale. Oggi esistono delle terapie specifiche che vengono fatte mediante delle iniezioni intravitreali e che se prese in tempo riescono ad avere dei risultati eccezionali sia in termini anatomici che, ripeto, funzionali. è qualcosa che noi dobbiamo...